Sviluppare la ricerca sulle tecnologie marittime e marine delle acque interne. Con questo obiettivo sono state avviate oggi all'Università di Trieste le attività dello SPOC numero 8 di INEST, il progetto di ricerca sostenuto dal PNRR con 110 milioni di euro che riunisce 24 partner per potenziare ed estendere i benefici delle tecnologie digitali alle aree di specializzazione chiave del nord-est. L'ecosistema INEST spiega una nota dell'Ateneo è strutturato in un elemento centrale hub a Padova con compiti di gestione e coordinamento e SPOC nel nord-est dove sono localizzate le attività di ricerca che coinvolgono vari soggetti affiliati. Lo SPOC 8, tecnologia delle acque interne verso un gemello digitale dell'alto adriatico vedrà coinvolti i dipartimenti di scienze della vita, matematiche e geoscienze, ingegneria e architettura, scienze chimiche e farmaceutiche. A questo SPOC contribuiscono anche sette soggetti affiliati l'Università di Trento, l'Università IUAV di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Padova, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani e l'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. L'Università di Trieste spiega ancora la nota, permetterà l'interazione tra le varie realtà coinvolte nei settori della bioeconomia, delle geoscienze, dei mezzi marittimi e delle infrastrutture di terra per la mobilità sostenibile, intelligenza artificiale e scienza dei dati, dedicandosi anche agli aspetti organizzativi, economici e giuridici che governano la transizione verso una visione e gestione dell'ambiente marino, marittimo e costiero più integrata e sostenibile. Grazie.